Musica Ragazzi, ragazzi, rieccoci qua su Lords of the Fallen Proseguiamo da dove c'eravamo lasciati Abbiamo raggiunto Calrat Bassa, mi pare, si chiamasse O forse sbaglio io nome, perché io poi, quando memorizzo un determinato nome, è difficile poi pronunciarlo magari nella maniera corretta Se poi è scritto in un'altra maniera, vabbè, comunque Detto ciò, c'eravamo potenziati un po', se non sbaglio Aspetta, fammi vedere Ok, se eravamo qua, avevamo intravisto la parte bassa Ma... semplicemente perché eravamo caduti Avevamo... ah, ecco, ecco, la scala Ma non eravamo scesi da questa scala, eravamo proprio caduti, ma... Qua dentro Cosa c'è qua dentro? Parla? Come on Ciao, Lampi Un uomo con un piccolo moustache ha detto che mi guardava che ieri metti Melchia in questa scala e che era come arrivare ad arrivare E guarda, ho trovato un cammino La pelle che ci siamo in, si è riuscita a uscita e si è perfetto È un buon signo, è Molchia ha detto che che avvene a essere la risposta a tutti i problemi I don't know what problems we had But Melchia knows best Yes, she does He'll sort everything out when I find him Blimey, ain't half warm around here though Eh beh, fa caldo The inserts and the fools are getting sleepy Isn't that right, pal? Si Sa che non sei molto sveglio tu Fa caldo, va tutto a fuoco, cioè Consegna bacca cerbe Vediamo Questo farà sicuramente una brutta fine Ah ok, questo è un piccolo Cioè, era solo per parlare con sto tizio Questo balcone, ok Quindi dobbiamo scendere Praticamente Lì c'è una scala ma non ci arriviamo Qui c'è la vestigia Ok Ah, lì c'è Ah ah C'è qualche passaggio? No No Qui Ma dove mi porti tu? Aspetta Mi fai scendere forse, no? Ah, è lui Sì Selvana Oh, l'interrotto Ok 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 Qua si scelte Madonna Madonna Aspetta che io Si, si va di là Aspetta che io Vorrei evitare di andare da qualche parte Che poi non posso più Tornare su o tornare indietro Cappello Cappello da plebeo Scettura da plebeo Pantagoni da plebeo Tutto da plebeo Vabbè Tutto è set Se scendo di qua Qui siamo fuori Ok Attenzione Attenzione Chi è? Ah, è Dov'è? Dov'è la? Madonna Ok No Madonna Ma quello aveva caldo, no? Quello aveva caldo Figurati io No No Madonna Si, però peccato Che comunque Tra di loro Non si fanno danno Questo Ah, lui è Ok Adesso ci parliamo Ah, qui c'è un ricordo C'è un ricordo Cosa devo andare dall'altra parte Per vederlo Aspè I'd heard things in Mournstead Were bad But this Centuries of madness And slaughter Atrocity upon atrocity Committed by man and rogar Alike If all this really resulted From the presence of the rune Then Whatever boons it might offer Don't forget that lamp is a burden But it's your burden So bear it Never turn to someone else to carry it for you No, no, tranquillo Questo l'ho capito Ho capito anche Che devo Purificare Quelle luci Rosse E fin qui ci siamo Poi il resto Non mi interessa Neanche Ok Il resto è anche Boh, di difficile Comprensione Per me Poi Cioè poi magari Onks Cos'è? Ahia Poi magari a riguardarlo Mentre non sono impegnato a morire Potrei anche capire Però Aspè Oh Ehi Posso guardare l'inventario Vieni qui a rompere le balle Ehm Non è un'arma No Ah beh Ok Ecco Il set da plebeo Va bene Ehm Oh non lo vedo questo Mappa dei bassi fondi Di Carrath Ok Ah una runa Onks Funzione armamente Dain da colpo terribile Funzione scudo Aumenta la resistenza Agli effetti Che provocano Barcollamento Nella regione Nota come Aride O Aride Non saprei Ehm Pianure Dell'Ove Si trovano ancora Alcune tracce di civiltà Sebbene lontane tra loro E separate da terre vaste Piene di pericoli Ok Vediamo Quello Non mi ha Conseguito Vai Aspetta Aspetta Resti per favore Ok Morire Grazie Ok Ok Fammi vedere Ah Ho capito Dove siamo finiti Abbiamo visto Sto posto Dall'altra parte Arco Della fanteria Profanata Qui Forse abbiamo aperto Forse abbiamo aperto una scorciatoia Mi lasciate stare Vero Sento dei passettini Qua Ancora questo Questo Mi ha preso E' abbastanza odioso Cioè alla fine Fa sempre i soliti attacchi Ok Però Non so Mi da fastidio Va che non me lo mira Ok No Attenzione Ok Basta Ci ha messo un po' A morire Va che Va che bastardo Che l'hai lasciato dopo Il vigore Qui Ah Ma guarda un po' E' da calciare Quello Ehi No No Lasciatemi stare No Fatevi i fatti vostri Dall'altra dimensione Grazie Piccolo Frammento Eh ma da lì Forse è da su Forse facendo Il giro So No Però sopra Oh Sicuramente Non da qui Per qui no Poi facendo Un giro Blablabla Ci troviamo Dall'altra parte Abbassiamo il coso L'affare E abbiamo aperto Una scorciatoia Ok Ok quindi Qua abbiamo visto Lì c'è tizio Allora Visto che Praticamente Dobbiamo tornare su Sì perché di qua Non c'è nessun passaggio Quindi la via È buttarsi di là Ok Allora Andiamo dall'altra parte Un attimo Ok E mi mira quello in fondo Devi mirarmi qui Ok Oh Elyan You can't just run off Like this You had everyone At the orphanage Worried sick I know It's not easy But it can be A frightening place At times So I want to give you Something very special I've had Since I was a little girl When I used to get scared I'd hold it Very Very tightly And that's when It would reveal Its magic to me And I'd know There was no need To be afraid So the next time You get scared I want you to be A brave girl And do the same thing Understand There's nothing To be afraid of Elyan I promise Pietra strana Eh però dai Durante questi ricordi E comunque questi Cavolo Ehm Fate che Non so Questo cerchio qui Sia zona sicura Perché se no Ehm Vengo attaccato Porca vacca Il pastiglio Di lì si riemerge Eh sì Però poi di lì Dove Va va Scusa Si va giù Di qua No Ah qui c'è un oggetto Pepite Regolare No Che giro si fa Di lì Scusa Non si può risalire Vabbè Senti Ehm Aia Oh Quanti ne ho presi Cavolo Che mossa Che ho fatto Non ho più energia Rimane con Della vita Imbarazzante Ok No Eh va anche loro Con uno di vita Rimangono Praticamente Prendi Prendi Senti Ecco Lo sapevo io Eh però Cioè io come cavolo Faccio a sapere Questa non ho Questa cosa Non l'ho ancora capita Come quale sia la differenza Tra oggetto Trappola E Oggetto Magari voi me l'avete anche scritto Nei commenti Ma al momento Nessuno mi ha scritto nulla Quindi ancora Non lo so Ok Eh però adesso Devo recuperare Eh è lì Vabbè vado lì Aspetta Vado lì Adesso facciamo Anzi facciamo una cosa Facciamo così Ok Aspetta eh Guarda che maledetto Recupero Ah questa è una trappola Questo qui è un oggetto Trappola Mi lasci stare Porca Ma Ma Ah forse di qua Sì ok ok Mi devi lasciare stare Sto Lavorando Oh Eh che cavolo Ah questo sicuramente è un oggetto Questo Ah forse ho capito Fa vedere Ok Allora questo qua A parte che è più Intensa la luce È un Leggermente più intenso E poi si muove Il Eh Non mi viene la parola Comunque Si si muove Tipo la codina Ecco ecco Invece questo Che è un oggetto normale Vedi Si muove anche questo Ma meno Ma meno Giuramento Oscuro Va bene Allora adesso abbiamo capito Ah mi sembrava strano Che non ci fosse Una differenza Se no è una bastardata Eh Ok Adesso la torniamo Su Aspetta Vediamo se Vediamo se riesco a non ammazzare questo Vorrei No Non ha preso la scala Aspetta Ok Vai 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 Eh no Qui non mi prendi Tu non sai le scale Vero Ah Mi sei assaltato Proprio Eh vabbè Ma non c'è il danno da cad Ah no Ok È morto È morto Ok Vabbè senti io Vado a riposare Qui Ok Così Resettiamo tutto Ok Miglioramento Cosa miglioriamo Sto un po' pareggiando qua Vitalità Costruzione Agilità Eh Facciamo Sì dai Agilità Va Ok E siamo però Siamo già a livello 50 No Ho premuto troppo Vabbè E no Quella cosa che ho preso Mi sa che È Una roba Esatto Giornamento Scuro Ti senti che Mere colore Sì vabbè Non mi interessa Ok Allora Buttiamoci Dove ci dovevamo buttare Dove che era Era forse Di qua Sì Ok Pucca Ecco Sono finito proprio su una tra Ok Trappola Ok E niente Alla fine Mi ha colpito Quel muro lì Eh ma lì Eh ma lì dietro c'è Ah non è esploso Ok Lì dietro c'è Si vede Lì si può piantare Un seme Niente Niente Lì dove c'è La tizio Ah non ho Ah Ecco Ecco Infatti Non ho controllato Faccio così Ok Si vedi Qua si può piantare Un seme Beh E' un luogo sicuro Effettivamente Spada Di pelle Denti Va a vedere Facciamo così Eh non la posso Forza 36 Ammazza Ma eh sì Io ho qualcosa Amice che rimarrò Con sta lama Del reietto Per tantissimo Tempo E' già un po' Che ce l'abbiamo Ma Trovare qualcosa Di Equivalente Mmm Non so Per questo Anche l'ho portata A più 4 Trovevo magari Potenziare anche Al massimo Beh allora Metterlo Qui Ma no E la vestigia è lì Ma è che Insomma Non siamo così Lontani Ok Hop Ah no Lui è pronto Aspetta Ah beh Lui è morto Lo stesso Ok Talmente debole Che Ok È talmente Debole Però ma basta Eh A lui Gli ricarica Un po' La vita E anzi Tutta Gli ha ricaricata Ok Ok Oh M'ha preso Frantuma Scaglie Ah Qui si passa Pantaroni Da mutilatore Frantuma Eh Sì Forza 26 Ma io Starei Sono Eh Sono Giusto Sì Andiamo Di lì Sì Ok Ah Qui si Riemerge Sprezzazione Da fuoco Ah Pensavo che c'era Un oggetto Mi sembrava un po' Strano Però Di qui si salta Forse Sì Ok Ok Oh Ho sentito Ah Lì c'è Ok C'è un ricordo Ma Non so Come andarci Da qui forse No Oh Eh 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 No 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 Lasciami stare Quello mi guarda Se vieni sotto Mi butto e ti attacco Eh Non viene Non viene Ah ma Cadi qua Ok Tracolla Munizioni Spingi scala Ah ok Abbiamo aperto Una scorciatoia Perfetto Aspetta Una scorciatoia Ma Ah ok Siamo ritornati qua Sì 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 Ok 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 Qua dove ci sono le trappole E 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 Questi calci Oh no Mi ha preso No Aspetta Olè Ok Wey Allora adesso Siamo dall'altra parte Potrei approfittarne Da zitto E E E E E Mi hanno incendiato Forse Munizioni Dicevo Non andava avanti Guardiano Altra roba Ok Ah Quello Madonna Ah Dobbiamo andare Proprio di qua Oh Ah Vabbè Due boss Sono diventati Nemici Normali Praticamente Ah Lui Di lui Non funziona Ah Mi ha rubato Il vigore Vabbè Ho voluto vedere Se per caso Magari abbiamo visto Qualche strada Nuova Che Però Di qua Adesso Esatto Abbiamo aperto La via Possiamo fare anche così 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 Ok Lì c'è tizio Ecco Questa mossa Toglie parecchio Poi ci abbiamo Anche lui Oh Ok Io sono andato Verso Aia No Quella di prima Non l'ho vista Perché stavo guardando lui Oh 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 Ah no Ok Di qua stavo andando Prima Ok Eh si Qua c'è Chi è Oh C'è coso Ma Eh No Un altro Questo era il devastatore Ma Mizzica Avrà meno vita Ok Ma è forte Comunque Immagino Aspetta Aspetta Non ho più Dove andava Torno indietro Ma qui il fatto è che c'è anche L'altro tizio Ah no Però ero nell'altra parte È vero Ok Eh Stavo dicendo Dall'altra parte Non è consigliabile Eh infatti Ah ma qua mi conviene a far così Oh Oh Aspetta Perché con l'altro Proprio no Poi non c'è neanche Il fuoco amico Tra di loro Aspetta Dove Dove era la strada Dove era la strada Oppo E vabbè Che cavolo Ma questo Tracolla Munizioni Perché era Ah eccolo lì Ah qui dove c'era Il semino Aspetta Ok Vai Riemergo qui Ottimo Salve 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 Ok Oh Minus Solo una cura Dov'è Ma si è resettato O si è resettato Minus Mi è preso Ma donna Grazie. 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 Le brio pietre qui salvano la vita, devo dire. Ok, quindi qua c'era solo lui, a meno che io non vado dall'altra parte, io dall'altra parte non ci vado. Sperando di non morire. Ah, questo mi sembra vero. Ok, protezione del fuoco. Ok. Qui. Ok. Ah, lì c'è un oggetto. Ascia di tassara. O tassara. Non lo so. Tutte, la maggior parte delle areme tutte forza, forza, beh, ha senso, eh, però. Vorrei qualcosa anche di agile, no? Qui, ah, qui posso piantare, e beh, qui magari sia più senso da impiantarlo qui. Ne abbiamo due. Aspetta, dov'è? Posso, no? Ok. Ma quindi se riposo, riposo, io riposo, quello si riforma. Perché ormai è un nemico normale. Eh, sì, 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 ormai è un nemico normale, vabbè. Vabbè, io l'avrei trattato più come un nemico, tra virgolette, speciale, però. Ehi, grazie. Che dovessi ripassare di lì. Eh, insomma. Ah, qui si può, poteva riemergere. Vabbè, qui la lanterna, ok, ma questa qua deve essere una roba online, anche se non... Ma anche qui posso piantare, ma scusami. A quanto pare. Pepite. Ok. Ok, siamo un po' più in alto. Ah, ma qui c'è una scala? Ma... Ok, no, di qui non siamo mai passati, se no l'avrei vista. Non è detto, eh, però. Scendi. Ah, c'è di nuovo la strega, lì. Ok. Ah, qui, ok, sì. Aspetta, vado su di qua. Qui. Ah, qui si... Dall'altra parte si può salire. Mmm. Mira, com'è... Ritarda la staff. Ah. Aspetta. No. Perché ormai ha dato l'allarme Dov'è la stregaccia? Aia C'è anche Ah ecco c'è anche quello con la doppia ascia Eh 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 Sì distrugge un po' tutto dai Aia No devo aumentare l'attacco Mi dà fastidio che rimangono Con una vita Non si vede neanche tutte le volte Siete che devo togliere proprio il giusto Per lasciargli con Madonna e qui me ne sono prese tutte I colpi No No Ah già che si deve trasportare E poi muore così Con la mano inalzata Ok Ok Eh Cosa c'è là in alto però Sarà qualche oggetto Io devo vedere Devo vedere ma Fammi vedere se per caso Più avanti O c'è Una testolina Che Ci fa reemergere Oddio sono rimasto nel muro Ok Qua posso piantare Ma direi di no Bastone seghettato Beh questo forse Non si basa sulla forza Però E invece Ah forza Più agilità che forza Però ci vuole anche la forza Picca Allora Ok Fammi vedere Qui Eh dall'altra parte Non c'è il fuoco Ah lì c'è anche qua Il cavaliere Ok Si ma Eh no Ehi 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 Aspetta Fammi passare Fammi passare Mi hanno preso Oh mi hanno preso E allora se mi hanno preso Appunto Io guarderei Se poi guarderei in giro Attenzione D'avvizzimento Allora qui si sale Ok Ma al solito Torno un attimo indietro C'era tizio Ma io lo Ah ma si è bloccato lì Sai che si è bloccato lì Allora se non c'è niente qua Lascialo lì Lascialo lì Aspetta Ehi ehi Guarda con che vita rimango Non ho parole Non ho parole Ah ma tu non sei mai infatti Poi uno pensa che muoiono E invece Aia Vi lascio stare un attimo Ah Ok Andiamo a finire Ah qua posso riemergere Io riemergo subito Ah no C'era quell'altra Scala da vedere Porca vacca Aspetta Eeeh Cazzarola Non sono ricordato dopo Vabbè abbiamo visto Una nuova via Abbiamo aperto anche La via Con Abbassando la scala Lì E però c'è qua Dov'è Qua Qua devo ritornare E qua Eh Sali Beh magari c'è anche qui La testolina Adesso vediamo No Ah ok Proprio nel fuoco Spada Il lord è caduto Ah che schifo Ah che schifo Questa Appunto C'è l'attacco pesante Insomma Ecco Ah che schifo Mi ha sputato in faccia Ok Ok Qua Oggettino Quintessenza Sacra Ottimo 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 Eh ma In effetti Comunque gli oggetti Più interessanti Mi sa che sono Proprio di qua Questo Oh mi ha preso Eh Mezza vita Con un colpo Ok Qui Chi è Ah No Non mi spingere Eh Ah Qui si può piantare Eh sì ma Si può piantare Sarebbe un luogo Ideale In effetti Però non solo uno Di semina Esplosione di lava Questa è una magia Chiaramente Basta Ma lasciatemi stare Aspetta Qua si scende Ora lo schifo Di falena Ah Vai No Qua c'è il cavaliere Il cavaliere brutto Aspetta Balsamo Aspetta 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 Un attimo Trego Un attimo Abbassiamo Oh Ah Ma va dove sono Sbucato Ho fatto bene A non piantare Semino Oh Troppa gente Troppa gente Aspetta Sì adesso comunque Ripollo Appena Mille mila giri Aia Ma No mi ha preso E allora via 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 Riposo 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 Basta Dovevo provare Ma No 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 Ok Ah ricevo Riposiamoci Ok Allora Prima Teletrasporto Andiamo Sono Sì qua Allora sì Non ho ancora trovato La cosa che potenzia la lanterna Sembra strano Però Potenza Parla Aspetta Usa la pietra strana That stone It looks Different Somehow But I know it When I was a girl At the orphanage There was a very kind woman Iris She gave it to me This was before the hallowed sentinels found me I felt so afraid And alone But Iris helped me overcome my fears I lost the stone Long ago But now Here it is again All these years later I wish I could say the same with the orphanage And Iris Ah Vabbè Una roba sua Vabbè Ah Adesso ce ne vogliono due Beh Ha senso Ovviamente Ok Allora E allora Niente Questo Accidere al forze Ah Ok Deposita la nostra roba Sì ma abbiamo un inventario Pressoché infinito Quindi direi Ah tu sei Arrivato qui Good thing I've got thick sturdy boots Because crossing some parts of that burning ruin they call lower Galrath It's like walking on hot coals Still When you grow up in Perdam You quickly learn what true heat is I've never been too fond of fire My grandfather used to tell stories about the Perdamish crusades And there was one About what the dark crusaders did To every man Woman And child In one small village That left an impression They may worship Oryus But it's clear as day Why judge cleric parted ways With the church of Oryian Radiance Hello again friend Ok Sì lui Vabbè ma Non voglio comprare nulla Anzi direi che Vendo Avevo delle armi dopo Adesso guardiamo Allora Il mucchietto di pietre Di mana Tanto non le uso Posso anche vendere Poi ho Qualcosa In gran quantità No Le cose delle munizioni Magari servono Sì per l'arco Forse O Cose simili Quindi io le terrei Si sa mai Qua armi doppie Mi pare di sì Eh però Ah già Spada dell'or caduto Inferno 30 L'antica spada Un tempo brandita Da un lord Dei rogar Durante la guerra Contro i giudici Vabbè Ecco questa Ok E basta Sì L'arco Ok Eh L'abit Abiti Mi pare che Non ho doppioni Infatti Allora Il resto Ma questo Sto tenendo Anche se Per ora Non so Va bene Qualcos'altro Non è che Dici qualcosa Di nuovo Ok Poi c'era Aspetta Dov'era Il tizio Tizio Di là Forse Lora Lora Kaurath Has long Been a flame Ravaged Ruin But evidence Of its former Inhabitants Blasphemous Beliefs Can still Be found Amidst The ash And rubble So Should you Feel Any sorrow At such Devastation Divest Yourself Of it For It Is Unwarranted Ok E non l'abbiamo Incontrata Quella lì Che aveva le dita Lì Mi pare Non so Del genere Vabbè Comunque Qui ok Non è che c'è Qualcuno Di nuovo Io un po' Che non Guardo Qua Qui c'erano Sempre Sti due Va bene Mi sa che questi Non dicono Altro Ok Qui No Non ho Nulla In merito Vabbè Andiamo dal Fabbro Allora A consegna Tavoletta Runica Rotta Selfish And avaricious Asker Linda Is Traveller She Is Indeed Skilled It's No Small Feature To Smith Magic Infuse Manical Such As The One She Used To Bind Me To When She Found Me We Can And In 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 I Watched The Cataclismic Death Of Un Universe And Came As Close To My Own Death As I Ever Have In All My Eons Only To Then Find Myself Once Again In This World Now A Slave I Have Traveled To Countless Realities And Born Witness To Wonders Beyond Measure And And Yet Eventually Time Numbed Me To All Of It I Had Cast Off My Mortal Form Long Ago With No Regret But I Was A Fool To Discard My Humanity I See That Now My Renewed Appreciation For Life For Experience For Freedom Is Only Made More Bitter Regret By My Current Enslavement I Want To Parlare Con Lei I Only Desire To Be Free Once More To Oh Boo Who Is Me Get Back To Ver Val Galinda Still Has Use For You Alloggia Rume Ah Vedi Vuoto Questa Aumenta I danni Da colpo Terribile Ok Dove Mettila Unica Che ho Potenza Equipaggiamento Eh Io Andrei A più Cinque Dai Tanto 4 Di 14 Si Potenziamento Poi Materiali Insufficienti Cosa Serve Poi Ehm Cos'è che Manca A2 Di Ah Quello Che Non Abbiamo Ok Vabbè Quindi Più Cinque Va Bene Ok Ehm Acquista Ah Adesso Adesso Vende Le rune Aumenta i valori derivati dall'attributo forza No Aumenta i valori derivati dall'attributo agilità Aumenta leggermente dall'attributo agilità Velosità Inferno Eh Quello dell'agilità Magari questa la prendo Dai 700 Velox Ok E Alloggia rune Ah Ma non aveva due slot rune Scusa eh No No col potenziamento Forse potenziandola Ah Potenziandola Adesso Che c'è Con quel nuovo materiale Ok Le rune Da una passano due Vabbè Quella l'ho Presa Va bene Vendi No mi sa che Non ho Per nulla Da Da vendere Ok E no Con 4007 Non ho Qualche teschietto No No non ce l'ho Eh Mi sa che non posso Potenziarmi Ah no Si Forse di uno Allora Ah si 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 Ok E Cosa potenziamo Vitalità Costituzione Agilità Andiamo di agita Ancora Potenziamo ancora L'attacco Ok E va bene Allora io Tornerei A birreria È il luogo Ok Torniamo qui E adesso Che abbiamo Aperto La scorciatoia Andrei di là